Buonasera dalla Grimaldi Classic Cars. Questa sera vi propongo una fantastica BMW Z1 con la sua forma veramente strana ma che ha scioccato il pubblico mondiale con quel suo grande effetto delle porte che scendono nello chassi della vettura. Ma ecco come funziona. Esternamente schiacciamo il pulsante della chiusura e la porta scende. Si nasconde invece internamente. Tiriamo sulla maniglia e la portiera sale. Si può anche regolare l'altezza del finestrino se la maniglia la fate chiudere totalmente o se lasciate a metà aperta. Poi comunque era giusto un esempio. La vettura dai tre quarti si presenta ovviamente in splendida forma. Cerchiamo di trovare automobili veramente veramente uniche. Autoparticolari che hanno quel non so che in più che fanno la differenza. bensì pensate solo 46.900 chilometri alla vettura. Veramente veramente un gioiello mantenuta nel tempo in perfetto stato e veramente tenuta bene. Adesso il quadro è acceso come ben vedete le spie di servizio classiche. Apriamo. Voilà. Ampissimo bagagliaio con mille litri di spazio. No scherzo. E' come fare una vacanza in moto. Bisogna sapersi adeguare. Di sopra c'è non tutti i ferri. e la ruota di scorta è posizionata nel posto più comodo di tutta la vettura. La mochetta è in perfetto stato. Non è logurata, non è usurata, non ha intagli. Tutta la tiranteria della capote. Ecco quello che volevo dirvi. E' in ottimo stato. Perfetto. Non so quante volte sia stata aperta ma è in perfetto stato. Si vede proprio da quello. Con poche semplici mosse si può aprire o chiudere la capotina. Come vedete adesso il vano è aperto. Ci sono delle leve da tirare. Niente di straordinario. Ecco siamo capaci tutti a farlo. Poi si fa un balzetto in avanti con la capotina. Et voilà. La capotina è chiusa. Come notate la capotina è ancora la sua d'origine. Che è veramente uno spettacolo. sembra uscita ieri dalla concessionaria. Guardate che roba. Impressionante. Targhe bianche categoricamente originali. Non vi aspetta che venirci a trovare. Sempre a Vigevano in Viale Montegrappa 15 al numero 0381 22787 oppure 347 7376032. Vi aspettiamo. Buona serata.